Ci troviamo sul lungo lago di Vantone, sulla nuova passarella che ha fatto il comune del lago d'Itro. Questo qui è un posto dove vi è una leggenda o una storia macabra che è legata a una leggenda e a un fantasma che è qua. Come potete vedere in questo posto che è incantato, prima cosa che salta all'occhio è che qui dove passa la macchina, via la strada militare della grande guerra che vi abbiamo già spiegato in un vecchissimo video, andate a cercarlo, strada militare Vantone Zumier. Qui durante la seconda guerra mondiale il fatto invece succede dopo la seconda guerra mondiale, come succedono molti fatti macabre in questo punto dopo la seconda guerra mondiale. Infatti qua, durante la seconda guerra mondiale, soprattutto nel 1944, vi era tutta la storia della seconda guerra mondiale, della guerra civile e qui vi era la nostra piccola storia. Questa storia inizia con un soldato tedesco che usciva con una ragazza del tempo di Idro, venne portato qui e venne trovato morto qua sotto con la sua macchina nel lago. Bisogna calcolare, questa strada era molto stretta, calcolando nel 1940, la strada era più o meno larga così e qui non c'erano tutte le balaustre, la macchina fu trovata qua sotto e la leggenda narra, cioè la storia che mi hanno raccontata, narra che i partigiani, essendo qua sopra, quelli che partigiani, i paesani, perché non sono solo partigiani, che hanno fatto questa storia qua, il tedesco dice ve la farò pagare per sempre, le ultime parole, prima nell'urlare nel cadere con la macchina di sciotto. Non si sa se è vero o no, solo manzata, però fatto sta che in questo punto, prima, subito dopo la grande guerra, si stacca un masso e dopo la seconda guerra mondiale si stacca un masso gigantesco là, qua sotto nel lago, quando il lago è basso si può ancora vedere, enorme, che spacca la strada, frana sia prima della galleria che qua dopo la galleria tre volte, c'è un incendio, muore un pompiere là davanti e frana anche la mulattiera qua sopra, in più negli anni continua a franare, naturalmente è una questione geologica, ma secondo il detto è il fantasma del tedesco, che vuole farla pagare ai miei paesani, cioè a noi, per averlo buttato in questo punto, infatti questo punto che fa il giro del lago è uno dei punti più franosi, non si sa se è una leggenda, se è una storia, qualsiasi che la sia, però mi è piaciuta raccontarla perché voglio salvare tutte queste credenze, queste leggende e metterle in questo archivio che si chiama le difese del lago d'idro, per poterle donare a tutti e perché quando si cammina si può raccontare qualsiasi cosa succeda qua. Un saluto a tutti dal lago d'idro e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!